La Sies ha sede a Firenze, la sede tecnica e la sede operativa a Bologna e vuole essere sempre più vicina a tutti i colleghi sul territorio nazionale e adeguandosi a nuove normative che ci sono sta istituendo responsabili regionali dappertutto. Io mi occupo della regione Emilia-Romagna come responsabile regionale e mi occupo del coordinamento in particolare scientifico anche per istituire nuovi studi e nuove possibilità per tutti i colleghi su tutto il territorio nazionale. Quali sono stati i principali focus sui quali è stato posto l'accento in questa è nata 2018? La naturalezza, sempre meno invasività, sempre più naturalezza, sempre più ridotto il tempo di recupero dopo gli interventi sia di medicina che di chirurgia estetica che comunque vanno a braccetto. Grazie.